C'era un tempo in cui gli atleti, prima di diventare campioni, erano uomini. Era un tempo di sogno, di sacrificio, di sudore. Era un tempo in cui il rispetto si conquistava colpo dopo colpo. E chi cadeva non rimaneva mai a terra. Era un tempo di giovani promesse, di sconfitte che facevano crescere. Era un tempo in cui prima di darle, si imparava a prenderle. Era un tempo in cui, più di tutto, contava mettersi in gioco. Accettare la sfida e non abbassare mai la guardia. Perché era un tempo di grandi imprese. Quel tempo è oggi. Grazie. Grazie.